Benvenuti nel mondo degli orologi Catorex. Catorex è un marchio svizzero di orologi che ha iniziato la propria attività nel 1858 a Lebrelou, nel cuore del giura svizzero. Fondata da Constant Cattin, un appassionato orologiaio, l'azienda si è specializzata nella produzione di orologi meccanici di alta qualità, caratterizzati da un design classico e senza tempo. La tradizione orologiera svizzera è conosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza, e Catorex fa parte di quella storia. Grazie alla sua abilità artigianale e alla passione per il dettaglio, l'azienda è diventata un punto di riferimento nel settore degli orologi di lusso. Nonostante la sua lunga storia, Catorex è riuscita a rimanere al passo coi tempi, innovando e migliorando costantemente la propria offerta. Oggi, Catorex produce orologi di altissima qualità, sia meccanici che al quarzo, che si distinguono per la loro eleganza e il loro stile senza tempo. L'azienda si dedica a fornire orologi di alta gamma a prezzi accessibili, offrendo un'esperienza di lusso che tutti possono permettersi. La collezione di orologi Catorex è vasta e comprende modelli classici e contemporanei, adatti a tutte le occasioni. Ci sono orologi da polso per uomini e donne, con cinturini in pelle o in acciaio inossidabile, con quadranti di diversi colori e finiture. Inoltre, Catorex offre anche una selezione di orologi da tasca, una scelta perfetta per chi cerca uno stile retro. Il design degli orologi Catorex è caratterizzato da linee pulite e minimaliste, ma anche da dettagli di alta qualità come la finitura satinata, la ghiera girevole e i marcatori delle ore luminosi. Gli orologi Catorex si distinguono per il loro stile unico e senza tempo, che si adatta a ogni occasione e a ogni outfit. Sono orologi pensati per gli intenditori, ma anche per chi vuole semplicemente distinguersi con eleganza. Quindi possiamo affermare che Catorex è un marchio che unisce tradizione ed innovazione, con una vasta gamma di orologi di alta qualità che soddisfano le esigenze di chi vuole un segnatempo sia funzionale che dal design unico. Grazie alla sua esperienza ultracentenaria e alla continua ricerca dell'eccellenza, l'azienda è riuscita ad affermarsi come uno dei marchi di orologi più riconosciuti a livello internazionale. Se sei alla ricerca di un orologio di classe e di eleganza, non esitare a dare un'occhiata alla vasta gamma di prodotti offerti da Catorex. Grazie a tutti.